ciao a tutti bentornati sul canale amo gli italiani ida platano è un personaggio famosissimo di uomini e donne ma in pochi sanno dove si trova il suo negozio mezza italia va a farsi i capelli lì scopriamo tutti i dettagli ida platano anche quest'anno è stata la protagonista indiscussa del programma condotto da maria de filippi uomini e donne la dama indubbiamente è la preferita e la più seguita sui social e proprio per questo in molti sono curiosi di dove si trovi il suo negozio di parrucchiere da poche settimane la bellissima ida platano finalmente ha scelto il suo nuovo amore alessandro vicinanza i due sono usciti insieme dal programma e al momento stanno vivendo la loro bella storia d'amore sembra che la coppia sia veramente molto affiatata ma soprattutto felice in particolare la dama dopo tanti anni di sofferenza e tira e molla con il suo vecchio compagno riccardo guarnieri adesso ida ha ritrovato il sorriso e l'amore grazie ad alessandro nelle ultime settimane il cavaliere in un'intervista rilasciata al magazine di uomini e donne ha dichiarato che il suo desiderio è formare una famiglia con ida nonostante la dama più famosa d'italia non è più nel parterre femminile del dating show la sua popolarità sembra non svanire mai anzi adesso che sta vivendo questa bella storia d'amore è ancora più seguita e amata infatti in molti sono curiosi di poterla incontrare da vicino come la bella dama ha un negozio di parrucchiere il negozio di air styling è veramente per tutti la dama si occupa della cura dei capelli delle donne ma anche degli uomini e da quanto si dice la bresciana di origini siciliane è molto brava nel suo lavoro in effetti dal suo sito si può notare subito quanto amore e bravura ci mette nel suo lavoro in molti ammiratori e stimatori di ida visitando la sua pagina hanno potuto ammirare le sue meravigliose acconciature colori asciugature tagli particolari e sono partiti da tutta italia e si sono recati al suo salone ida platano glamour che si trova a brescia in via antonio gransci 129 bagnolo mella dalle recensioni sembra che la platano sia considerata la migliore in circolo grazie per aver guardato l'intero video metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità ci vediamo nei prossimi video ciao